Ricaricare il Starlight è semplicissimo. È sufficiente collegare il cavo USB che troviamo in dotazione con il caricatore da 220V, sia che ci troviamo a casa che in ufficio. Il passo successivo è quello di collegare il cavo USB alla presa del connettore magnetico. Ora è sufficiente collegare il connettore magnetico al nostro Starlight, controllando che il positivo e il negativo corrispondano allo stesso del connettore. Tutto sarà facilitato dalla nostra calamita. E adesso colleghiamo il nostro connettore 220V a una normalissima presa, d'ufficio o di cavo. Rosso in fase di carica, verde avrà completato la sua carica.